rinunciare e durante il periodo della corsa all'anello di narni alla presenza di paolo bagliocco sarebbe come che ne sono mettere fuori le bandiere per me per noi per insomma per quella che ormai una bella consuetudine paolo intanto come stai immagino no immagino so che non stai in italia sei nell'isola di cipro sono a cipro sto bene no non ho la corona quindi non sono regnante né d'inghilterra né d'italia né più di cipro quindi diciamo sto bene sono in quarantena come come tutto il mondo e che dobbiamo fare aspettiamo aspettiamo fiduciosi che le cose si risistemino e che quindi possiamo riprendere a fare una vita normale normale se ti ha proposito l'è un'isola com'è la situazione perché un'isola uno fa presto a chiudere chiudi tutto diciamo abbiamo un caso zero casi dieci casi quelli in teoria rimangono come qui a cipro il virus è arrivato un po più tardi tu pensa l'ha portato un aereo che veniva dall'onda perché tu sai che all'inizio l'inghilterra ha avuto questa bella trovata di ignorare la gravità della questione e quindi l'aereo che è arrivato a cipro ha portato persone infettate di qui quindi la cosa si è allargata non è una situazione preoccupante ma hanno adottato le stesse identiche misure che ha adottato l'europa quasi tutta l'europa o per nemmeno l'italia diciamo è leggermente meno meno pesante la quarantena nel senso che per esempio si può uscire una volta al giorno per andare a fare un po di una passeggiata un po di movimento all'aria aperta adesso con la seconda fase è ancora più più morbida perché si può uscire più volte al giorno mentre fino a fino al 4 maggio era una volta al giorno controlli ce ne sono molti lì a cipro? guarda io ti dico che ovviamente fino adesso non posso andare al mare che è una cosa che mi manca tantissimo perché è vietato andare al mare e fare il bagno però sono sempre uscito la mattina e ho incontrato in questo mese 4-5 volte la pattuglia della polizia e non mi sono mai fermati e non mi hanno mai chiesto niente però dove vivo io non è proprio il centro centro quindi magari forse dipende anche da questo però se tu vai al centro c'è la pattuglia della polizia che ti ferma e ti chiede dove vai perché vai e ti chiede i documenti certo come accade qui da noi in altri paesi allora immagino che se non ci fosse stato questo grave e drammatico problema tu in questi giorni saresti stato a Narni sì 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 avevo programmato di stare a Narni e per adesso non 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 è possibile ovviamente non mi è permesso spero credo non so adesso vediamo quello che succede di riuscire a venire a fine a fine maggio questo questa è la mia idea è il mio programma ma dipende un po' da quello che succede ti manca la festa il clima della festa oltre vabbè i tuoi congiunti la festa non posso dire che mi manca perché io in realtà sono fuori dalla corsa d'anello da vent'anni in realtà vent'anni esatti dopo aver fatto vent'anni di fila con Fraporta e prima ancora dall'edizione del 99 non ho più partecipato sì sono un paio di volte mi hanno chiesto di di partecipare al corteo storico l'ho fatto un paio di volte ma sono fuori sono fuori nel senso che a parte è giusto anche che ci fossero altre persone ad occuparsene però per me la costanella è stata un evento che ha segnato tanti momenti importanti della mia vita lo dico seriamente proprio tanti momenti importanti dalla prima edizione fino fino a questo 1999 poi non più quando potevo stavo a Narni la vedevo poi ovviamente mi ha fatto piacere vedere che che le mie figlie soprattutto Beatrice in qualche modo ha fatto tante cose anche lei all'interno della corsa d'anello però personalmente no per me personalmente è una storia che è finita all'epoca ma non ho soltanto ben ricordi di una verità qualche piccola amarezza ma piccola amarezza rispetto alle grandi soddisfazioni e al piacere e niente fermo restando che ogni anno quando ti incontriamo beh voglio dire credo che ti si aprirà il cuore quando vedi passare i cortei senti suonare chiarine musici tamburi e c'è a buon carnese quello e beh quello rimane insomma voi sicuramente sicuramente l'esperienza da protagonista si appartenga al passato ci sta insomma hai fatto talmente tanto hai scalato tutte le posizioni e posso comprendere ora io dietro a te te l'ho già posta prima in privato questa domanda vedo delle cose meravigliose allora intanto quel tocca che mi dicevi che in cirillico significa tosca una delle cose che hai fatto che hai diretto no 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 ti spiego questa questa è la casa della mia compagna è soprano e che quindi ha cantato in mezzo mondo e ha cantato anche tosca l'anno che io riuscì a riorganizzare un evento legato alla ida e alla mummia di nardi l'ho invitata lei è venuta e ha cantato al trato comunale ma qui ci sono diversi manifesti che riguardano più che altro la sua carriera lei ah ecco però l'aida quella riguarda te quel poster dietro la tua testa lo riguarda tutti e due perché io l'ho coinvolta come cantante e in quell'occasione ho coinvolto anche Berrice come attrice e abbiamo ricordato ancora una volta questa storia incredibile che lega la mummia di nardi una mummia egiziana autentica alla nascita di questo grande capodavoro del melodrama cioè l'aida di Giuseppe Verdi e l'abbiamo fatto esattamente nel 2013 al teatro comunale precedentemente l'avevi proposta al Narni Open Air altra purtroppo avventura partita benissimo poi finita male insomma il famoso teatro all'aperto di Narni Scalo anche lì l'aida l'abbiamo inaugurato con l'aida di Giuseppe Verdi un nuovo allestimento che era tutto ispirato e legato alla storia di questa mummia egiziana e l'abbiamo fatto abbiamo fatto 11 repliche il primo anno e 6 repliche il secondo anno poi il terzo anno sono stato letteralmente fatto fuori da questo bel progetto e quindi la cosa è finita lì non si è più fatta l'idea mia era che Aida a Narni all'Open Air fatta con quella formula dovesse essere replicata tutti gli anni con altre cose ma tutti gli anni Aida anche perché abbiamo avuto un bel riscontro come pubblico come critiche tante cose importanti erano accadute tu pensa che dopo la prima edizione dopo il debutto di questa Aida fu invitato da Vittorio Sgarbi a Milano alla Scala e abbiamo fatto una mostra dedicata alla mummia di Narni al Palazzo Reale a Milano per una settimana ci sono articoli che confermano ricordo bene questa bella cosa senti allora adesso una volta superato questo momento di clausura di blocco eccetera come con che cosa ripartirai cosa c'hai in programma per questo 2020 Paolo? ma guarda avevo in programma quattro cose diverse tanto per dirti come vanno queste faccende sono state tutte e quattro cancellate spero che non sia cancellata l'ultimissima avevo un impegno con la Julia School di New York che da cinque anni mi chiama a fare una masterclass per giovani cantanti d'opera vengo in Italia a Nova Feltria nel Montefeltro in Emilia Romagna per fare un corso di tre settimane di approfondimento per giovani cantanti d'opera americani non soltanto americani cinesi coreani tedeschi inglesi eccetera e questo ultimo impegno che ancora non è stato cancellato andrebbe dalla fine di luglio a metà agosto non sappiamo se sarà possibile non sappiamo se sarà possibile sia per la situazione in Italia ma anche per la situazione in America spero perché tutto il resto mi è stato cancellato e come tu sai chi fa questo il nostro lavoro chi sta nell'ambito dello spettacolo soprattutto lo spettacolo dal vivo perché in televisione si può fare ancora sta in mezzo a una strada per noi la situazione non è drammatica è veramente tragica mi dispiace mi dispiace l'hanno detto tante persone aggiungo pure io la mia parola che nonostante nessuno si aspettava che venissero riaperti all'improvviso i teatri ma che nell'ultimo decreto il nostro presidente Conte che pure sta facendo del suo meglio ritengo non abbia speso neanche una parola a favore di questo questo mi ha veramente un po' amareggiato perché si può dire non possiamo riaprire i teatri non possiamo riaprire le attività che riguardano lo spettacolo dal vivo ma almeno dire una parola per chi da mesi non riesce non ha nessuna entrata, zero entrate e gli aiuti a chi sta in difficoltà in realtà non sono per noi perché mille problemi, mille questioni burocratiche e non mi risulta che nessuno ancora abbia preso un soldo quindi non è tanto il virus il virus ha la sua gravità ma quello che diventa tragico è che sta veramente mettendo in difficoltà seria, seria tante, tante centinaia di migliaia di persone speriamo ecco che di uscire presto da questo incubo noi ti diamo appuntamento in Italia nella fattispecie nella nostra Narni e tu continua a tenerti in allenamento perché prima o poi dovremo uscirne da questa situazione e ripartirà certi mesi persi non ce li dà più nessuno insomma quindi denaro, energie, impegni purtroppo questo è ci vediamo a Narni caro regista Paolo Bagliocco è sempre un piacere è sempre un piacere questo mi piace sottolinearlo è un piacere anche per me sarà un grande piacere quest'anno più degli anni passati e tornare a Narni dopo un bel po' di tempo bene ad maior allora ciao grazie ciao a presto ciao ciao ciao